Ciao a tutti da Rita e bentrovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme un tiramisù all'ananas, un dolce adatto alla stagione, fresco, delicato e semplicissimo da preparare. Prima di andare in cucina vi ricordo come al solito di iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, di condividere le mie videoricette con i vostri amici e di cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Ed ora mettiamoci all'opera! Per realizzare le notifiche dei miei prossimi video Per realizzare il tiramisù all'ananas abbiamo bisogno di savoiardi, ananas sciroppata con il suo sciroppo che utilizzeremo come bagna, mascarpone e zucchero a velo, yogurt all'ananas e panna da montare. Io in questo caso sto utilizzando una panna vegetale già zuccherata. Iniziamo subito a montare la panna. La panna è ben montata e la portiamo in frigo. A questo punto dobbiamo unire lo zucchero a velo al mascarpone e lavoriamo con la spatolina fino ad ottenere una crema. Ora possiamo aggiungere lo yogurt e misceliamo. Ecco qui, la crema di yogurt e mascarpone è pronta. e ora possiamo unirla alla panna montata. E ora misceliamo con il frullatore a velocità minima. La crema è pronta. possiamo trasferirla in un sacco a poche. Ora dobbiamo tagliare le fette di ananas a cubetti piccolini. e anche le fette di ananas a cubetti piccolini. Lasciamo un paio di fette di ananas per la decorazione finale. Ed ora possiamo comporre il nostro tiramisù. Bagno i savoiardi nello sciroppo e li compongo uno a fianco all'altro sul vassoio. Ora distribuiamo la crema. Ho messo una punta, una bocchetta liscia, da un centimetro. Ora mettiamo la nasa sulla crema. Ho messo una punta, una bocchetta liscia, da un centimetro. Ora procediamo a comporre il secondo strato, esattamente come abbiamo fatto per il primo. Procediamo a mettere il secondo strato di crema, esattamente come abbiamo fatto. prima. E ora ancora ananas a cubetti. Ora metto al centro la nasa. così. E una fogliolina di mento. E il tiramisù all'ananas, fresco, delizioso, semplicissimo da preparare, è pronto. Ora questo tiramisù deve andare in frigo dove deve riposare almeno 4 ore prima di essere servito. Bene, anche per oggi è tutto. Io spero che il mio tiramisù all'ananas sia stato di vostro gradimento. e se così sarà, attendo un vostro like. E come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta. Vi invito come al solito ad iscrivervi al mio canale, se non siete ancora iscritti, a condividere le mie videoricette con i vostri amici e cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Un grande abbraccio a tutti voi. Darida